...è dedicato al centenario della pubblicazione del trattato di sociologia generale ...di Alfredo Pareto. Quest'opera fu pubblicata infatti nel 1916 dalla casa editrice Barbera di Firenze, città con la quale in cui Pareto era anche risieduto ...e con la quale avevano anche poco dei vecchi legati. Questo grosso volume, anzi, vedete, arriviamo a qualcosa che sta tra le 1500 e le 2000 pagine ...questo trattato viene pubblicato quando Pareto era quasi settantenne e ha alle sue spalle già una duplice carriera. ...in primo luogo una carriera di ingegnere, soprattutto di ingegnere ferroviario, che l'aveva portato all'unità d'Italia al vertice delle ferroviarie italiane, del neonato stato tecnico. ...e successivamente una carriera di professore che egli compie a Losana, dal momento che in Italia non aveva trovato una collocazione académica. ...a Losana, dove per lungo tempo e dal ... ... per un interno circa insegna economia politica. ...e proprio al periodo, questo secondo periodo della vita di Pareto, appartengono le sue quattro grandi opere, ...precisamente il club d'economie politica, che esce nel 96-97, ...les systems socialistes, che esce nel 1902-1913, nel Pareto, successivamente Pareto passa dalla stesura di opere in francese, italiane e pubbliche pubbliche nel 1907. Quella che è probabilmente la sua opera più importante manuale di economia politica è dieci anni dopo, nel senso appunto, il trattato di sociologia generale. Trattato che avrà una seconda edizione, che esce nel 1923, poco dopo la morte di Pareto. Dopo questa seconda edizione, del 1923, il trattato di sociologia generale non viene più riedito, ...fino a quando, per tutto il periodo prebellico, durante e immediatamente dopo la guerra, ...attraversa un lungo periodo di oscuramento, un periodo di oscuramento all'incirca di una quarantina d'anni. ...finché nel 1964, quindi 48 anni dopo la pubblicazione originale, ...non viene riedito nella collana dei classici della sociologia, delle edizioni di comunità, ...con una introduzione di una non lunga, ma interessante e documentata introduzione di Norberto Bobbio. Ora, si potrebbe fare un lungo discorso, forse verrà fuori o nelle relazioni o nella discussione, ...sul perché di questo lungo periodo di oscuramento, che poi sostanzialmente coincide con l'egemonia della cultura idealistica nel mondo italiano. E abbiamo, sia prima sia immediatamente dopo la guerra, questa situazione. che pareto economista è largamente studiato ed è, insieme a Maffeo Pantaleoni, ...uno dei due capostipiti di quella che si era soliti, forse oggi non lo si fa più, ...chiamare la tradizione economica italiana, il pareto sociologo viene sostanzialmente ignorato. Al contrario di quanto avviene in Italia, viene studiato fuori d'Italia e soprattutto nel mondo anglosassone. Ma già nel 17-18, quindi pochi anni immediatamente dopo la pubblicazione della prima edizione, ...era già stato tradotto in francese e la traduzione era stata curata dallo stesso autore. Nel 1936 esce una traduzione inglese col titolo La mente e la società, the mind and society, che è la traduzione che fa la fortuna internazionale di pareto sociologo. Infine nel 62 noi abbiamo una traduzione tedesca parziale. Ma soprattutto la fortuna di pareto è affidata non tanto alle traduzioni, ...ma alla parte di un'opera di un grande sociologo americano, ...la struttura dell'azione sociale di Talcott Parsons, ...che dedica appunto una trattazione, un'ampia trattazione di sociologia paretiana, ...e che rimette in qualche modo la posizione di pareto in circolo nella cultura sociologica internazionale. In realtà il trattato di sociologia generale di pareto non è un'opera sociologica nel senso altamente professionale in cui noi usiamo questa parola. È un'opera eclettica di un studioso piuttosto isolato ma soprattutto molto autoreferenziale. ...è un'opera che in qualche misura era già vecchia quando pareto la scritta, ...che si ispirava più a Comte e a Spencer e ovviamente, come vedremo, molto più indietro a Machiavelli, ...che non ai sociologi che erano allora i capofila della nascente sociologia novecentesca. Intanto è completamente ignorato Max Weber. Ci sono anche delle ragioni abbastanza ovvie, perché l'economia e società, questa opera, questa specie di costruzione postuma, ...come summa del pensiero di Max Weber, esce dopo la morte dell'autore nel 1921. Del resto pareto non conosceva, non leggeva il tedesco e quindi non poteva conoscere i saggi di Weber, ...che venivano in larga misura pubblicati sull'archiv für soziale Wissenschaft, un soziale politik. ...in quanto a Durkheim Pareto non aveva nessuna considerazione. Casomai aveva maggiore stima e maggiori rapporti intellettuali con Georges Sorel. ...quindi Pareto rientra, o meglio, il trattato di sociologia generale, ...rientra in circolo via Stati Uniti, cioè via Parsons. E devo dire che anche in Italia, anche dopo la ripubblicazione, ...nell'edizione prefata da Bobbio nel 1964, ...l'interesse per quest'opera è stata molto maggiore tra gli scienziati politici, ...filosofi politici che non presso i sociologi. Non abbiamo, credo, nessuna monografia sociologica significativa ...dedicata all'opera di Pareto in Italia. Mentre invece abbiamo sia in Germania sia nel mondo anglosassone. Bene, questo è un rapidissimo inquadramento ...per dare alcune informazioni sommarie a un pubblico in cui magari molti conoscono di Pareto soltanto il nome, ...prima di dare la parola ai relatori. ...non sto a presentare né il professor Marchionatti né il professor Portinaro, ...che sono i nostri soci della generazione immediatamente successiva alla mia. ...el professor Marchionatti insegna economia politica, ...el professor Portinaro filosofia politica. ...invece il dottor Mornati è ricercatore, anche lui, di economia politica. ...e allora non dottore, ma professore associato, neoprofessore associato di economia politica. ...e il professor Somaini, che parlerà dopo, è professore di politica economica nell'Università di Parma. ...ed è un studioso, in modo particolare, di due problemi del resto connessi fra di loro. Da un lato, il problema della diffusione della democrazia, dei fenomeni delle nuove democrazie, ...soprattutto fuori dal continente europeo, e del problema dell'eguaglianza. Bene, do, senz'altro, la parola e anche il microfono al professor. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, la relazione che, insieme al professor Mornati presento, ...riguarda la relazione tra economia e sociologia nel pensiero di Pareto, ...con particolare riferimento, ovviamente, al trattato di sociologia. Iniziamo col vedere qual è stata l'interpretazione, l'interpretazione tradizionale, ...che il trattato di sociologia ha avuto presso gli economisti in particolare, ...ma anche presso i sociologi, cosa di cui, in parte, ha già parlato il professor Rossi. Ora, tra gli economisti il trattato di sociologia è stato un libro poco o nulla conosciuto. Poche sono le eccezioni, anche se significative. Schumpeter fu, senz'altro, invece, un buon conoscitore di Pareto e un buon conoscitore anche della sua sociologia, ...anche per i suoi interessi personali. Questo è vero soprattutto nell'anglosassone, ovviamente, qualche eccezione, in particolare in Italia la scuola paretiana, ...un occhio di qualche riguardo per il trattato di sociologia l'ha avuto. Una caratteristica fondamentale della visione, comunque, che del trattato sia avuta da parte degli economisti, ...è quella di separare nettamente il Pareto economista dal Pareto sociologo. Il Pareto economista è il vero scienziato, diciamo così, dal punto di vista degli economisti, ...il teorico della scelta razionale e di quello che il Pareto sociologo chiamerà le azioni logiche. ...il tema del rapporto tra economia e sociologia è del tutto trascurato, anzi direi del tutto ignorato, ...da parte degli economisti, proprio da un punto di vista teorico. La sociologia non è il campo dell'economia e Pareto è un grande economista della scelta razionale. Questa è la visione tradizionale che in economia si ha di Pareto. Bisogna dire che altrettanto disinteressati al rapporto tra economia e sociologia sono stati per lunghissimo tempo i sociologi. Il citato Parson è il primo ad aver sistematicamente suddiviso un Pareto economista e un Pareto sociologo. Per lungo tempo, inoltre, i sociologi, anche qui con poche eccezioni, hanno considerato la sociologia di Pareto, quasi fin dall'inizio in effetti, come datata e superata. Questa è stata la visione tradizionale. Bisogna dire che recentemente questa visione, questo atteggiamento è mutato, sembra essere mutato. C'è un interesse crescente e di nuovo, ma non soltanto nel mondo anglosassone, nel mondo anglosassone, nel mondo francese, per Pareto teorico, per il Pareto teorico delle emozioni, diciamo così. Questo interesse è fortemente emerso, cioè il tema della ragione e dei sentimenti, o come potremmo dire con una parola più classica, delle passioni, ragione e passioni nella vita sociale, perché viene visto come il luogo in cui di questo si parla. Si è detto che in questo ambito, che quindi porta a relazionare di nuovo economia e sociologia, si sono aperti dei cantieri, dei cantieri di lavoro. Mi sono cantieri aperto, ha detto, qualche anno fa recensendo gli ultimi 15 anni di letteratura paretiana Giovanni Busino. E noi, con il nostro lavoro, diciamo che ci inseriamo in questi cantieri, in particolare appunto esaminando il rapporto tra economia e sociologia, dal punto di vista degli economisti in particolare, perché Pareto, questo è da sottolineare, Pareto scrisse il trattato con una prospettiva da economista in mente, nel senso che il trattato è anche, come cerchiamo di mostrare, un programma di ricostruzione della scienza economica, quando Pareto diventa consapevole dei limiti della scienza economica come scelta razionale, che peraltro aveva grandemente contribuito a costruire e a sistematizzare, Pareto è indubbiamente, il più importante economista, insieme a Marshall, economista neoclassico al cavallo tra i due secoli. Ovviamente questo programma di ricostruzione dell'economia si affianca, si inserisce, si sovrappone a un programma più generale di ricerca della costruzione della scienza sociale, che attraversa tutta la vita di Pareto. In effetti, la relazione tra economia e sociologia è al centro dell'interesse di Pareto in tutta la sua vita di studioso, cioè sostanzialmente quando lascia le attività imprenditoriali. E si confonde con il suo obiettivo di costruire una scienza della società. Pareto scrive nel 17 che il trattato di sociologia è il libro in cui sta lo studio di una ventina d'anni. Questo vuol dire dal 96-97, cioè gli anni del Cur. In realtà, lui sta facendo riferimento semplicemente al periodo di scrittura, di programma, di scrittura del trattato. L'interesse per la sociologia è ben precedente, di una ventina d'anni prima, cioè esattamente coevo al suo interesse per l'economia politica. Questo è interessante perché permette di dare una prospettiva diversa alla riflessione di Pareto. Ora, nella nostra ricostruzione soprattutto, il punto centrale, il problema fondamentale del, possiamo chiamarlo, del viaggio intellettuale paretiano tra economia e sociologia, in questo tentativo di costruzione di una scienza della società, nella nostra ricostruzione, dicevo, il punto cruciale, centrale, è individuato in questo passo, un passo fondamentale del 1917, scritto un anno dopo l'uscita del manuale in lingua italiana, in cui Pareto ripercorre il suo cammino, è il discorso del giubileo, in onore di Pareto, all'Università di Lausanne, in cui ripercorre il suo cammino di studioso. Arrivato, lo leggo, arrivato a un certo punto delle mie ricerche di economia politica, io mi trovai in una via senza uscita, delle mie ricerche come economista, mi trovai in una via senza uscita. Vedevo la verità sperimentale, cioè quella del metodo logico sperimentale, di cui lui era un sostenitore, ma non potevo raggiungerla. Parecchi ostacoli mi arrestavano, tra gli altri la mutua dipendenza dei fenomeni sociali, la quale non permette di isolare interamente gli studi dei differenti generi di questi fenomeni e che si oppone al progresso indefinito di uno di essi, se questo è privato dell'aiuto degli altri. Ora, questo passo evidenzia la questione, possiamo dire, metodologica ed epistemologica fondamentale. Se le ricerche di economia politica erano fondate sull'idea che esse, nell'ambito, cioè della disciplina più sviluppata, secondo Pareto, cioè quella dell'economia, rappresentavano una sorta di prima approssimazione, di prima approssimazione nella costruzione della scienza della società, ovvero Pareto qui adotta il metodo delle approssimazioni successive, l'evoluzione della sua ricerca, questa quarantennale evoluzione della ricerca, che seguiva rigorosamente il metodo sperimentale che lui voleva adottare anche in sociologia, la retratezza della sociologia contemporanea, secondo Pareto, stava nel fatto che non aveva adottato il metodo logico-sperimentale, ovvero il metodo scientifico. Bene, l'evoluzione della ricerca, seguendo questo metodo, lo porta però a scontrarsi, scontrarsi con l'impossibilità di raggiungere la verità sperimentale, perseguita attraverso il suo metodo. Questo lo induce a ritenere di essere giunto, appunto, a una via senza uscita, ovvero, detto in altri termini, lui coglie, diventa consapevole dell'inadeguatezza del metodo delle approssimazioni successive. Questa almeno è la nostra interpretazione. Perché? Perché gli studi di differenti generi, disciplinarmente differenti, dei fenomeni sociali non possono essere interamente isolati. Non è possibile, cioè, una costruzione che separa l'uomo economico dall'uomo politico, dall'uomo religioso, e così via. Non è possibile la separazione disciplinare netta nel campo della scienza sociale. Non possono essere, quindi, isolati interamente, a causa di cosa? Della mutua dipendenza dei fenomeni sociali. Tra l'altro, ma di questo non ne posso parlare, c'è un'analogia strettissima col percorso intellettuale dell'altro grande economista dell'epoca, cioè di Marshall, che ha un percorso molto diverso nel modo, ovviamente, di presentarsi, ma da un punto di vista epistemologico e metodologico molto, molto simile a quella di Pareto, che raramente la letteratura ha colto. La via d'uscita che lui trova, era senza via d'uscita, la via d'uscita è il trattato di sociologia. Quindi, come vedete, il trattato di sociologia nasce da un problema squisitamente economico, il fallimento, dal punto di vista di Pareto, della scienza economica e del metodo che ad essa si associa. Io vidi che avevo avuto il torto di circoscrivere troppo strettamente lo studio, cioè all'astrazione economica, nei limiti propri, appunto, dell'economia politica. E dice, ma non basta riconoscere gli errori, non basta riconoscere gli errori, bisogna correggerli. Ora, lui aveva percorso un lungo, percorso, appunto, una lunga via di indagine dedicata all'economia politica, seguendo rigorosamente anche qui il metodo sperimentale, aveva contribuito in due modi fondamentali alla crescita della scienza economica e alla maturazione della scienza economica neoclassica con elaborazioni concettuali fondamentali, il concetto di curve di indifferenza legato al problema delle preferenze, il concetto di ottimo, sono due caposaldi della teoria economica neoclassica fino ad oggi, che si continuano a insegnare agli studenti, anche se non con il, diciamo, nel modo problematico in cui Pareto stesso li elabora. Dall'altro, lo sviluppo del metodo di verifica, perché il metodo logico sperimentale richiede che le teorie siano considerate buone soltanto se sono provate dai fatti, fatti è una parola che ricorre sempre in Pareto. Quindi sviluppo del metodo di verifica, Pareto dà un contributo all'analisi empirico-quantitativa, all'analisi statistica, di enorme, di enorme rilievo. Ebbene, questa via, molto importante per gli economisti, tuttavia, è una via che si rivela senza uscita. Spinto dal desiderio di apportare, e anche qui fondamentali le parole usate, un complemento indispensabile, non è un orpello in più la sociologia, non è, come pensava all'inizio, una possibile premessa al discorso economico, è un complemento indispensabile agli studi dell'economia politica. L'economia politica ha bisogno, in una certa misura, di legarsi strettamente, di fondersi, se vogliamo, in una nuova scienza, perché è complemento indispensabile, la sociologia come complemento indispensabile agli studi dell'economia politica. E questa è la ragione, è la ragione del trattato di sociologia. Quindi abbiamo un percorso che va dal riconoscere che l'osservazione, la storia, indicano la scarsa rilevanza della teoria economica fondata sull'assunto di razionalità perfetta, e accanto a questo i limiti del metodo dell'approssimazione successiva adottato che lo portano al trattato di sociologia, alla scrittura del trattato di sociologia. Fatta questa premessa, dico brevemente di cosa parliamo, una lunga premessa che riprenderò alla fine, ma adesso passerò la parola al professor Mornati. Sostanzialmente noi cercheremo qui di dare un excursus dell'evoluzione della relazione tra le due discipline nel quarantennio di studi paretiani. Quindi prima del cours d'economie politica, poi il cours d'economie politica, perché qui dal punto di vista metodologico il rapporto diventa molto importante, e poi quella che Pareto chiama il periodo della severa revisione dei lavori fin lì compiuti, vent'anni di severa revisione dei suoi lavori, che sostanzialmente si può dividere, ma questa è un'ipotesi di lavoro che abbiamo adottato in due periodi, quello che va dal 1898, cioè immediatamente dopo il cours, fino al 1906, cioè la pubblicazione del manuale in italiano, che poi avrà una versione con qualche approfondimento nel 9 in Francia, e l'altro che va dall'immediatamente dopo il manuale, cioè dal 7, 1907 fino al 1916-1917, cioè gli anni di scrittura del trattato. Qui prevale lo studio della sociologia, anche se questo è accompagnato da perfezionamenti nel campo dello studio dell'economia di estrema importanza, in particolare non si può non citare un articolo del 1911 dal titolo Economia Matematica, che sarà un modello per gli economisti matematici che seguiranno nei decenni successivi e costruiranno l'economia matematica degli anni 30. Ma l'interesse fondamentale, teorico di Pareto, è la sociologia. Mi pare che Pareto sia un caso a favore dell'utilità conoscitiva della biografia intellettuale. Infatti, se non conoscessimo questa biografia, non riusciremmo a capire per quale ragione Pareto da quattro anni, grazie, da quattro anni ordinario di economia politica a Lausanna, nell'inverno del 97, davanti all'improvvisa richiesta di supplire l'incaricato del corso di sociologia che si è reclissato, risponde positivamente. Infatti, come già accennato, l'interesse sociologico di Pareto dura già da un ventennio, è davvero coevo a quello dell'economia politica. Se si ha la pazienza, ma anche il piacere di scorrere tutto quello che ha scritto appunto tra il periodo appunto fiorentino e quello losannese, si raccoglie una messa molto ampia di citazioni di carattere sociologico. L'autore che mi pare lo interessi maggiormente è Spencer. In particolare ci sono due argomenti che lui ripete spesso, che devono averlo prescindato favorevolmente. Innanzitutto, la capacità di Spencer, subito dopo Sedan, di prevedere il ritorno del protezionismo con riferimento appunto al protezionismo come elemento di quel tipo societario militare che Spencer vede nella Germania appunto che si è affermata a Sedan. Quindi, secondo Pareto, appunto il fatto che questa previsione di Spencer, subito dopo Sedan, si sia verificata con il rilancio del protezionismo europeo, colloca sicuramente la sociologia tra le scienze perché ha quella capacità previsiva che il Pareto dell'epoca, ancora molto ingegnere, ritiene sia una qualità fondamentale di ogni scienza. Poi c'è un altro ragionamento diciamo spenseriano che Pareto ripete spesso. È quello della necessità per uno sviluppo equilibrato della società che i suoi aspetti individualistico e collettivistico marcino di pari passo. Se avanza solo l'aspetto individualistico allora la società diventa una congeria di selvaggi mentre se avanza solo l'aspetto collettivistico la società diventa un blocco immobile come quella che Pareto ritiene essere la società cinese del tempo. Quindi è necessario appunto che i due aspetti sociali quindi quello individualistico e quello collettivistico avanzino entrambi simultaneamente. Questo è un pensiero che Pareto evidentemente apprezza perché lo ripete spessissimo. Quindi questo interesse simpatico per Spencer trova la sua consacrazione nel cur dove appunto il capitolo sociologico è in larga misura una presentazione dell'evoluzionismo. sì grazie è una cosa interessante appunto non solo per gli studenti ma anche appunto per coloro che sono appassionati appunto della ricezione che l'evoluzionismo aveva avuto nell'epoca è molto documentato questo capitolo però lascia già intravedere una certa insoddisfazione per appunto l'evoluzionismo che Pareto precisa in questi termini l'evoluzionismo tra i tanti pregi ha avuto quello di dare una ricostruzione di interazione dinamica di certe classi di fenomeni sociali la famiglia il diritto la religione però il grosso difetto non aver studiato l'interazione tra queste classi quindi è qualcosa di monco quindi non risponde ai suoi esprite sistemi e con questa considerazione quindi insufficienza dell'analisi evoluzionistica dell'interdipendenza dei fenomeni sociali questo è il punto di partenza del suo tentativo di fare una nuova sociologia ricordiamo appunto sempre nell'ambito della biografia intellettuale che Pareto è uno che praticamente è un'autodidatta cioè ha fatto i suoi studi a Torino ingegneria poi appunto ha fatto per vent'anni l'ingegnere ha studiato così in un modo solitario non ha debiti ecco diciamo debiti di scuola quindi è uno cui piace costruire le sue macchine teoriche da solo poi quando trova qualche autore lo apprezza ma se ne serve riconosce i meriti poi non è che non è che si genufletta ricordiamo il rapporto con Varas di Varas dice che lui ha preso solamente lo schema dell'equilibrio con l'angolo generale aggiunge più volte che l'avete potuto rifarlo dal punto di vista matematico non l'ha fatto così per deferenza diciamo Varas per lui è solamente quello che ha avuto la grande idea dell'equilibrio con l'angolo generale niente di più per lui non è una gran cosa e lo stesso appunto vale per Spencer Spencer fino a quel momento l'ha stuzzicato alle letture sociologiche dal 97 cioè quando lui stesso deve fare il sociologo almeno dal punto didattico ecco dice non va bene non mi soddisfa allora cerca anche in sociologia come un po' sta facendo in economia una nuova via allora qui vorrò dare semplicemente quelli che mi sembrano gli snodi analitici fondamentali allora il primo passaggio è questo a Pareto per Pareto è evidente che la società la società si può concepire come appunto un intreccio di azioni quindi una teoria della società non può che essere una teoria dell'azione è quello che cerca lui allora come si costruisce da parte di Pareto questa teoria appunto Pareto è un autore estremamente non essendo un accademico è un autore estremamente selvaggio un po' anarchico bisogna avere una grandissima pazienza nell'inseguire i suoi argomenti quindi non tutti l'hanno avuta però appunto facendo un tentativo di pazienza mi pare che il punto di partenza di questo lungo percorso analitico volto a costruire una teoria dell'azione sociale parte appunto nel maggio del 97 quindi in pieno primo corso di sociologia quando dice che ogni fenomeno sociologico ha due aspetti un aspetto oggettivo o di relazione tra fatti e un corrispondente aspetto soggettivo cioè la relazione tra gli stati psichici che l'uomo ha dei fatti con cui si trova a confronto questo mi pare il primo diciamo la prima idea che Pareto pubblica riguarda riguardo appunto il suo tentativo di costruire una nuova sociologia questi due aspetti a nota Pareto non coincidono mai nel migliore dei casi sono quasi convergenti come nel caso degli scienziati e di coloro che svolgono azioni proprio commerciali per il resto invece i due aspetti sono sempre divergenti allora questo appunto questo primo abbozzo appunto della teoria dell'azione sociale in Pareto è con molta fatica che poi si traduce nelle due categorie di azioni logiche e azioni non logiche è molto faticoso ci sono molti tentativi che comunque assumono anche l'aspetto di tassonomie che appunto Pareto propone a più riprese in un decennio io mi limito a ricordare quelli più riusciti che poi sono quelli trasfusi nel necuro allora 1909 allora si viene si persuade che di un'azione bisogna studiare i suoi antecedenti psichici e i collegamenti che ci sono tra questi antecedenti psichici e i fatti in cui l'azione si concreta così viene fuori questa tassonomia gli antecedenti psichici possono essere sperimentali o non sperimentali i collegamenti tra antecedenti psichici e appunto azione possono essere logici o non logici quindi viene fuori una tassonomia di quattro tipi di azioni quindi azioni sperimentali e logiche diciamo in larga misura ma non completamente studiate dall'economia quindi secondo noi la teoria economica quindi è solo uno dei possibili tipi di teoria delle azioni sperimentali e logiche mentre appunto quando faceva all'inizio della sua attività di docente di economia politica l'economia politica era proprio la scienza delle azioni logiche lì invece diventa una delle possibili scienze delle azioni logiche poi ci sono le altre tre quindi azioni sperimentali e non logiche azioni non sperimentali e logiche e azioni non sperimentali e non logiche e solo l'anno successivo quindi quell'articolo diciamo classico a meno nella letteratura paritiana le azioni non logiche che viene fuori definitivamente la definizione di azioni logiche e azioni non logiche poi appunto finita nel manuale quindi quell'azione per cui sono logiche quelle azioni che presentano mezzi appropriati al fine ed uniscono logicamente i mezzi al fine queste due proprietà le azioni non logiche sono la stragrande maggioranza delle azioni umane sono quelle che non rispettano né l'una né l'altra delle due proprietà poi un'altra cosa importante un altro aspetto importante che in Pareto c'è subito in questo faticoso percorso di costruzione della teoria dell'azione c'è questa idea per cui gli uomini per lo più compiono azioni non logiche però hanno questo gusto di legarle a diciamo motivazioni logiche e questo appunto questa sua posizione gli consente di formulare in un modo nuovo quello asset quello studio diciamo di tipo interdipendente dei vari elementi dell'azione logica fa un esempio interessante che poi appunto nel trattato sviluppa nell'ultimo capitolo ed è questo quindi ogni azione non logica ripeto con le azioni non logiche che sono la maggior parte dell'azione umana ha quindi tre componenti lo stato psichico che la produce e che produce anche una diciamo congeria di sentimenti quindi abbiamo appunto uno stato psichico che ha due diciamo conseguenze l'azione vera e propria e dei sentimenti allora lui dice con un tono che un po' moralistico autoironico fa l'esempio del caso fa l'esempio del successo del libero scambio in Inghilterra lui dice in Inghilterra appunto nell'ottocento si è affermato il libero scambio questa è l'azione questa azione è dovuta non alla teoria del libero scambio che è semplicemente un'altra delle conseguenze di uno stato psichico sociale favorevole al libero scambio quindi dice non è certo la teoria del libero scambio a diciamo ostacolare il ritorno del potenzialismo in Inghilterra tutt'altro è la permanenza di questo stato psichico sociale favorevole al libero scambio favorevole perché si ritiene che il libero scambio abbia giovato al paese però appunto c'è interdipendenza tra questi tre elementi la teoria del libero scambio potrà diciamo influenzare favorevolmente il mantenimento del libero scambio solo se riuscirà a in qualche modo tradursi in sentimenti che possano rafforzare lo stato psichico sociale a favore del libero scambio quindi diciamo con le azioni non logiche il suo problema che era quello di dare quella rappresentazione diciamo interdipendente degli aspetti diciamo della società che secondo lui mancava nell'evoluzionismo l'ha almeno proprio a livello di primissimo bozzo raggiunta ecco questo diciamo è proprio in succo quello che mi pare essere mi sembrano essere i passaggi fondamentali di questo faticosissimo percorso che ha condotto Pareto a crearsi da niente una teoria dell'azione sociale che poi appunto magnifica nel trattato con ampissima documentazione eccetera è questo che volevo dire ripassiamo la parola e anche accendiamo grazie quindi nel in questo lungo periodo abbiamo da un lato sintetizzando al massimo fin dall'inizio il riconoscimento della mutua dipendenza dei fenomeni sociali e il porsi del quesito fondamentale qual è la parte del fenomeno economico questa è l'impostazione iniziale il cur diventa da questo punto di vista è importante da molti punti di vista anche nelle relazioni economia e sociologia ma lo è per quanto ci riguarda soprattutto in un punto nel definire l'economia come come ho scritto qui la prima approssimazione c'è un passaggio del secondo volume del cur in cui Pareto fa un confronto tra il fenomeno naturale il fenomeno il fenomeno sociale all'interno della descrizione del fenomeno sociale c'è questo passo fondamentale cioè l'economia politica è lo stadio iniziale dello studio scientifico fondata sul concetto di homo economicus che agisce in virtù delle forze economiche cioè perseguendo la massimizzazione dell'utilità o come preferirà dire Pareto felimità o meglio ancora poi soddisfazione questo è il campo dell'economia politica pura questa segue dice l'economia politica applicata l'economia applicata già non considera più soltanto l'uomo economico ma considera anche altri esseri l'uomo religioso che si accostano un po' di più dice l'uomo reale quindi ha una visione di diverse astrazioni che definiscono un ambito l'uomo economico l'uomo religioso e così via che poi che hanno una loro autonomia e che poi si mettono insieme si mettono insieme il loro complesso infatti dice costituisce la scienza sociale se si vuole considerare un fatto concreto si deve tener conto di tutte queste scienze già che è solo con un processo di astrazione che abbiamo potuto separarle l'una dall'altra ma poi dobbiamo procedere alla sintesi quell'anno il 97 l'anno in cui esce la seconda parte del cura è anche lo ricordiamo l'anno del primo corso di sociologia dove riprende l'idea di sociologia come scienza prima ricordata che cosa emerge dagli studi di questo periodo e del periodo immediatamente successivo alcuni punti fondamentali che potremmo sintetizzare dicendo che Pareto scopre analiticamente la complessità dell'equilibrio sociale in primo luogo mette in luce la varietà e complessità delle forze sociali due tra le tantissime citazioni le forze che determinano l'equilibrio sociale sono estremamente vani e complesse e il termine complesso incomincia a ritornare a essere presente molto frequentemente una società è un aggregato essenzialmente eterogeneo quindi gli individui sono diversi tra di loro una delle ipotesi che la scienza economica ha sempre malamente utilizzato da allora in poi fino ad oggi è quella di un agente rappresentativo parete lontanissimo dal adottare un tale approccio se non nell'economia politica pura è fondamentale per trattare questa società questo aggregato eterogeneo la logica matematica che è il linguaggio fondamentale dell'economia pura è inadeguata inadeguatezza della logica matematica difficilmente si può applicare a questioni puramente sociali ruolo primario invece è quello e questo va indagato quello che lui chiama il sentimento nell'azione umana l'uomo è un essere estremamente complesso ribadisce la ragione non serve a nulla per dirigere gli uomini il sentimento la passione gli interessi passione gli interessi fase classica smith e company la usarono li muovono la maggior parte delle azioni degli uomini trae origine non dal ragionamento logico ma dal sentimento quindi queste sono le cose che sono sotto indagine ma l'idea è che si possa cogliere e creare questa scienza dell'agire umano attraverso la diciamo così alleanza tra diverse discipline ognuna delle quali però è in grado di mantenere la sua autonomia in questo ambito introduce i concetti prima ricordati di azioni logiche e di non logiche importante vorrei solo ricordare che non logico non vuol dire sottolinea Pareto il logico non vuol dire irrazionale azione non logica non significa necessariamente il logico ma è a volte semplicemente questo è importantissimo un adattamento forse il migliore possibile dei mezzi al fine ottenuto attraverso un altro procedimento un procedimento diverso da quello del ragionamento logico notare il migliore possibile questo vuol dire che il ragionamento il ragionamento non logico può essere nelle condizioni complesse della società può dare nelle condizioni complesse della società un risultato migliore di quello che darebbe l'agire seguendo un procedimento semplicemente logico e questo è una cosa di notevolissima importanza i sentimenti religiosi dice sono il cemento della società bene tutto questo ragionamento lo porta però dopo nei primi anni del novecento noi abbiamo collocato questo punto di svolta fondamentale dopo il sei il sette ad esempio c'è un articolo molto importante sull'economia e la sociologia dal punto di vista scientifico in cui dice è difficile separare l'economico dalle altre scientie sociali notate mentre fino allora aveva proceduto assumendo la possibilità di separare l'economico dalle altre scienze sociali qui incomincia a dire è difficile è difficile perché lo dice sostanzialmente ho cercato di riassumerlo nella frase successiva non solo bisogna studiare il rapporto tra i fatti ma anche il rapporto tra le impressioni che i fatti suscitano negli uomini nonché gli effetti sociali della divergenza tra i due rapporti sta dicendo cioè che tra i vari tra i vari tra queste varie espressioni dei fatti vi è un effetto retroattivo ci sono effetti di feedback che impediscono quindi l'utilizzo del metodo che fino allora riteneva quello quello da seguire cioè il metodo delle approssimazioni successive non si possono in un certo senso sommare i risultati delle diverse astrazioni all'interno delle diverse discipline c'è un'interazione complessa che lo impedisce questo è fondamentale nel aprire un altro un altro sentiero si abbandona qui si chiude il sentiero del ragionamento fondato sulla grande importanza dell'economia e si passa a un ragionamento diverso è fuori di dubbio dice sempre in quell'articolo del 17 in cui ricostruisce il suo percorso che assai sovente le conclusioni delle teorie economiche non sono verificate dall'esperienza sta dicendo che la scarsa rilevanza di una teoria economica fondata sull'assunto di razionalità perfetta come superare queste difficoltà ci sono tre vie d'uscita che Pareto individua e dice si può dire che la scienza economica non serve a nulla ripudiamo la scienza economica abbandoniamola abbiamo seguito un percorso che ci ha portato a dei risultati troppo insoddisfacenti per proseguire si può rassegnarsi a questo difetto di corrispondenza e questo ritiene sia ciò che la maggior parte degli economisti del suo tempo fanno e dire che noi cerchiamo non quello che è ma quello che dovrebbe essere è la grande accusa che rivolge a Varras di seguire la via del dover essere la linea varrasiana la linea varrasiana che lui definisce negativamente come metafisica infine dice c'è c'è un'altra via che è quella della scienza possiamo cercare se i difetti di corrispondenza tra teorie e realtà non provengano dal fatto che certi effetti studiati separatamente l'ipotesi delle diverse astrazioni si trovano modificati da altri effetti che noi abbiamo trascurato di considerare questa è la via della scienza il modo in cui si possono individuare nozioni più rigorosamente sperimentate qui c'è ancora però l'idea secondo la quale la sperimentazione è fondamentale si arriva quindi al trattato di sociologia come avevo detto come via d'uscita parecchi economisti vedono ora che la loro scienza dà risultamenti i quali divergono più o meno dal fenomeno concreto intuiscono quindi la necessità di perfezionarla ma sbagliano circa la via da seguire per raggiungere l'intento si ostinano a voler trarre dalla sola loro scienza qui sembra scritto per i nostri colleghi di oggi quanto occorre per avvicinarsi al fenomeno concreto trarre dalla sola loro scienza mentre invece occorre ricorrere ad altre scienze ragionare di proposito non già accessoriamente un complemento indispensabile aveva detto in occasione di un problema economico la via dell'interdisciplinarietà per usare una parola molto forse troppo usata oggi occorre occuparsi dell'intreccio dei risultamenti dell'economia con quelli delle altre scienze sociali questa è la via per superare i difetti dell'economia questo è un passo fondamentale della della sociologia arrivo arrivo alle conclusioni fondamentali ovviamente ho trascurato sperando che il pubblico in parte lo sappia quali sono i concetti fondamentali che vengono introdotti nel 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 trattato di sociologia cioè per comprendere il fenomeno sociale le azioni non logiche l'agire economico è per pareto essenzialmente l'origine dell'agire economico sta in impulsi primari e manifestazioni di questi pareto li chiama residui residui cioè comportamenti che sono selezionati possiamo dire dall'azione reciproca congiunta di fattori genetici e culturali sono gli istinti le passioni i sentimenti residui e poi le false razionalizzazioni delle azioni che pareto chiama derivazioni residui e derivazioni sono i suoi concetti fondamentali questi sono residui e derivazioni mediano possiamo dire le relazioni tra gli impulsi primari e l'azione e pareto cosa studia quindi studia fondandosi su questi concetti nella sociologia le logiche argomentative possiamo definirle che governano quindi le condotte umane questo misto di azioni logiche non logiche è evidente che nel fare questo prima di concludere devo dirlo il metodo logico sperimentale che non è mai abbandonato il metodo della scienza ne risulta però profondamente modificato il metodo logico sperimentale parte dall'induzione poi la deduzione la verifica molto banalmente ora nel ragionamento degli economisti e la deduzione il punto fondamentale pareto aggiunge la verifica nella creazione di questa scienza sociale che va oltre i limiti dell'economia e della sociologia c'è una profonda modificazione in cui la dimensione induttiva della ricerca diventa cruciale è fortemente potenziata il ruolo della verifica e il ruolo della verifica la statistica non è più sufficiente la statistica non è in grado di verificare questo è solo uno strumento talvolta utilizzabile e qual è il grande strumento di verifica è la storia è questo recupero della storia alla fine del suo percorso che è di estremo interesse bene cosa abbiamo cercato di fare da un lato come ho detto all'inizio il nostro lavoro si inserisce in questo dibattito attuale caratterizzato dall'abbandono della separazione tradizionale tra pareto economista pareto sociologo evidenzia come la riflessione tra economia e sociologia sia una costante del ragionamento paretiano attraverso l'intero percorso di studioso di pareto interpreta il trattato questo è un po' diciamo il tentativo di contributo originale del nostro lavoro interpreta il trattato come un programma di ricostruzione dell'economia al di là dei limiti della scelta razionale capace di dar ragione della complessità dell'azione umana se vogliamo fare un collegamento con la riflessione di oggi il legame che viene spontaneo trovare è quello con l'approccio cosiddetto comportamentale che ha riunito economia sociologia economia psicologia in primo luogo la linea se vogliamo fare dei nomi che parte con Herbert Simon e passa attraverso Daniel Kahneman due premi Nobel dell'economia ma non economisti di formazione uno scienziato l'altro psicologo che cosa hanno messo in luce queste cose molti punti che noi ritroviamo nel trattato il fatto che gli individui agiscono seguendo quella che Simon chiama la razionalità procedurale o la razionalità limitata bounded rationality il termine usato operano in un quadro informativo e conoscitivo incompleto incerto operano con capacità cognitive limitate un aspetto che Pareto mette molto in luce cercano soluzioni soddisfacenti che li soddisfino come uomini ai problemi valutano alternative e conseguenze in modo parziale quindi questa sottolineatura dei limiti dell'azione sono fortemente influenzati da convenzioni da abitudini qui Pareto si rifà agli unici studi che lo aiutano in questo senso quelli di di favola cioè sulla vita degli insetti e questo procedere attraverso routine per usare il termine di Simon e compiono in questo in questa faticosa ricerca di soluzioni di decisioni errori sistematici mostrano come le chiama Kahneman assimmetrie di comportamento sono influenzati dalla storia dalla storia dalle istituzioni dal contesto istituzionale dal valore psicologico che attribuiscono i risultati un altro aspetto che c'è nel nel trattato mi fermerei qui grazie grazie